Dove termina il tuo viaggio? Cerchi ciò che conferirà a te il diritto di governare. L'impresa di riconquistare una patria e annientare un drago. Non credere che non ti uccida, nano. Quando abbiamo lasciato che il male ci sopraffacesse? Non è la nostra battaglia. È la nostra battaglia. E se fosse una trappola? È indubbiamente una trappola. Tale è la natura del male. Col tempo tutte le cose orrende vengono fuori. Se risvegli la bestia, distruggerai tutti noi. Era il terremoto. Quello, ragazzo mio, era un drago.